come era prevedibile che accadesse alessandra celentano non ha preso bene lo sfogo di guido ad amici 21 nonostante sia un suo allievo infatti la maestra si è arrabbiata come se fosse un allievo che vorrebbe fuori dalla squadra anzi forse il fatto che si sia lamentato proprio un ballerino scelto da lei l'ha fatta infuriare ancora di più nel daytime di ieri guido si è lamentato al termine della puntata di domenica di ciò che era successo quindi ha spiegato che si stava ponendo delle domande sulla scelta fatta e di non essere sicuro di essere fatto per la scuola di amici guido era consapevole di ciò a cui stava andando incontro ma viverlo è stato diverso il suo sfogo è stato accolto da altri ballerini in quei momenti per questo alessandra celentano ha deciso di parlare a tutti oggi ha chiesto a guido che aveva richiesto un incontro con l'insegnante di tornare in casetta e chiamare tutti i ballerini in palestra poi la celentano ha iniziato parlando delle riflessioni di guido di ieri che ha ripercorso punto per punto ha ricordato al ballerino che amici è una scuola che esiste da 20 anni quindi sapeva bene a cosa stava andando incontro giudizi confronti e paragoni esibizioni a freddo tutte le cose di cui guido si è lamentato il ballerino ha spiegato il suo punto di vista e ha confermato che si sta facendo delle domande quando la celentano lo ha invitato a porsele ha fornito anche degli spunti per queste riflessioni facendogli notare che amici di maria de filippi è una palestra enorme per i ballerini dopo il programma sono pronti a risolvere qualsiasi imprevisto sul palcoscenico e soprattutto allenano la memoria preparando tante coreografie in una sola settimana insomma ha ricordato a guido tutti gli aspetti positivi della scuola di amici ma a premere ancora di più l'insegnante era replicare alle parole di mattia sui meccanismi televisivi rivolgendosi al ballerino di raimondo todaro con cui dietro le telecamere c'è un rapporto sereno la celentano ha detto questo è gravissimo secondo me tu hai detto qui è televisione qui ci sono questi meccanismi devono fare questi meccanismi ma allora io mi chiedo ma cosa venite a fare qui se pensate che è tutto finto ma statevene a casa però vi piace poi quando il pubblico vi osanna e urla il vostro nome e poi guardate sui social e date importanza a cose poco importanti in questo momento questa è una mancanza di rispetto mattia e se lo pensate tutti andatevene tutti a casa perché è una mancanza di rispetto verso tutti quelli che lavorano qua dentro